Adesso andiamo in Puglia, c'è stata una rapina, durante questa rapina un benzinaio è stato colpito alla gola da due pallottole, uno dei due rapinatori è stato arrestato, l'altro è ancora ricercato. Sale in auto con la valigetta stretta in mano, dentro l'incasso della giornata la pompa di benzina parte, ma poco dopo una grossa moto gli blocca la strada. Nella via si sentono alcuni colpi e la moto che riparte a grande velocità. Sono attimi ma rimangono nell'aria, così come rimane in strada ferito gravemente un benzinaio di Trigiano in Puglia. Una pallottola lo colpisce alla gola. La moto con a bordo due uomini è già lontana, il benzinaio un 44enne della zona in ospedale in prognosi riservata. I carabinieri vanno a colpo sicuro a casa di Francesco Lippolis, 43enne di Trigiano, ancora addosso i vestiti usati per la rapina. Arrestato, viene portato nel carcere di Bari. Secondo le prime ricostruzioni il benzinaio dopo aver visto la moto avrebbe cercato di scappare ingranando la retromarcia, ma le pallottole lo hanno raggiunto prima. Le ricerche ora si concentrano sul complice della rapina che è riuscito a far perdere le tracce subito dopo il colpo.